Finisce 2-1 per il Milan, una partita persa in maniera abbastanza strana, soprattutto per quello che è accaduto poi dai primi piani, prima quello su Acerbi, la sua risata e poi la grande rabbia di Marusic che urla alle spalle del proprio compagno di squadra. Il Milan vince 2-1, ne parliamo con Paolo Bonelli e con Giuliano De Mattei, iniziamo proprio con Giuliano, appunto su queste sensazioni finali di questa partita che è un po' strana per quanto riguarda le prestazioni dei singoli. Sì, ha giocato molto bene la Lazio, almeno per una mezz'ora, poi dopo è uscito fuori in Milan, anche una squadra molto fisica, forte, LA o incontenibile. La Lazio è sembrata un po' crollare fisicamente, ma anche a livello di concentrazione, attenzione, si è sbagliato tanto, ma da una parte e dall'altra le squadre si erano un po' allungate. L'ultima scena che ha fatto il gol veramente è strano, perché sono leggerezze che non si possono fare, dopo una partita di grande sacrificio rovinare tutto così. E poi è difficile capire quello che è successo, ma c'è stato qualche screzzo tra Acerbi e Marusic, che poi sono i due colpevoli su quell'azione e è successo qualcosa. Paolo, il tuo punto di vista, dopo quello che abbiamo visto in tv? Ciao a tutti. Sì, è strana, guarda, più che altro la risata di Acerbi, che può essere anche vista come uno sfogo nervoso per un errore fatto là davanti, però sembra veramente fuori luogo. Non so, forse Marusic, come dicevamo prima fuori onda, magari in un certo punto nell'azione in cui perde palla ho visto che i compagni sono un po' sfuggiti, sono un po' nascosti. E non so se si fosse andato a lamentare con Acerbi per non essersi fatto vedere quando lui cercava di dar via palla. Voglio pensare che sia una cosa del genere, perché se no diventa uno screzzo che magari può significare qualcosa di più profondo e speriamo di no. Soprattutto, scusate, visto anche la situazione di Acerbi che è successa con i tuposi, l'ambiente, sarebbe anche un po' stupido fare una cosa del genere dopo una sconfitta al 91. Sì, è mancato, a un certo punto quando Isai ha perso palla o non ha riconquistato la palla a metà campo, proprio nell'azione finale, ho rivisto esattamente, proprio in quel momento, lo stesso errore visto contro la Juventus. E' mancata questa concentrazione, è mancata questa cattiveria, il Milan aveva più fisicità, aveva più forza, è stata una settimana particolare per la Lazio, è stata l'influenza e quant'altro. Però quello che abbiamo visto, dispiace ancora sottolineare quell'episodio che resterà per tutta la stagione, penso sia anche il capitolo finale di Acerbi alla Lazio, in quella risata lì, in una giornata così difficile in cui l'Olimpico sembrava San Siro. Penso che proprio questo sia un po' il nodo di una stagione che ha visto dei lati positivi nel gioco di Sarri, ma che ha visto proprio una squadra, lo sbando dal punto di vista contrattuale, scadenze di contratto, lì con i tifosi. Ecco Paolo, da parte tua, questi ottimi dieci minuti, poi quanto contano queste cose che abbiamo detto, il carattere, la situazione contrattuale, l'ambiente, eccetera? Sì, la Lazio sembra una squadra che si smonta facilmente, quando gioca bene, quando sembra in giornata, se la gioca la pari con chiunque, si vede la mano di Sarri, si vedono le individualità che dal centrocampo in su, insomma, sono di valore, però sembra anche molto facile a smontarsi. Non so se sia anche un problema di gruppo, magari una squadra che sente molto forse la pressione, come la sentiamo noi, di tante voci in un ambiente che non sempre è molto unito. Si va dalle contestazioni alle situazioni, come dicevi, contrattuali, questa figura di Lotito che comunque è sempre un po' pesante in un ambiente, nel bene e nel male, a volte. A volte è una squadra che abbia poco carattere, poche abitudini a giocare anche sotto pressione e lì si vede la differenza con una squadra come il Milan, che pur in un periodo che non è il migliore della sua storia, comunque fa vedere tutta un altro tipo di tenuta, anche da un punto di vista fisico, per carità. Però forse anche da un punto di vista mentale. Giuliano? Io penso che alla fine siamo un po' condizionati dal risultato, nel senso che alla fine anche con un pareggio strappato magari sarebbe stato molto importante, anche perché hanno perso Roma e Fiorentina e tutto quanto, ma Lazio ha lottato, ha giocato, poi la differenza la fanno anche le rose delle due squadre, perché i cambi del Milan non sono i cambi della Lazio e poi anche un po' proprio il difetto strutturale che ci si porta un po' dietro dall'inizio stagione, perché è una squadra che a tratti è stata veramente bella anche nelle uscite, palleggi, ma non tutti i giocatori sono adatti a fare questo tipo di calcio che vuole Sarri. Faccio un paradosso in difesa, Acerbi che era il più forte sembra quello un po' più in difficoltà, mentre Patric che era l'ultima delle scelte è forse quello più adatto e che sta giocando meglio. Quindi al di là per esempio dell'errore, Acerbi lo vedo molto in difficoltà, Stragoscia ha fatto buone parate, però poi ogni volta che ha la palla tra i piedi sono brividi. I cambi, a parte Kataldi e Basic che hanno fatto in un momento comunque difficile senza chissà quelli picchi, però hanno fatto in loro, ma gli altri non sono entrati bene, Isai, anche Luiz Felipe, Palle Perse. Sì, il discorso della Rosa. Quelli entra a Erebic, entra a Ibrahimovic. Sì, ma guarda, quello che però stiamo puntando un po' il dito sul discorso della Rosa lo sapevamo, il Milan è sicuramente più forte, questo è proprio un discorso relativo alle basi del futuro, qui si rischia veramente di perdere anche Sarri il prossimo anno, qui c'è in corso una situazione grave che è grave da un po' di tempo, non ce ne eravamo accorti forse perché dall'altra parte c'era il nulla e come sappiamo a Roma quando dall'altra parte vincono dei trofei, non accadeva da vent'anni e tutto cambia. Allora questa mentalità molto provinciale che ammettiamo un po' tutti di avere, ma che in questo caso fa emergere proprio queste crepe assurde che ci sono nella gestione, della società, lo diciamo da vent'anni anche noi, però anche nel discorso stesso della grinta, una squadra o ce l'ha o non ce l'ha. Ecco, il prossimo anno non so chi sarà in panchina perché questa sera noi stiamo parlando veramente di un risultato beffardo, ma il prossimo anno è veramente serve gente un pochino più affamata e con la voglia anche di attaccare non soltanto gli spazi, la tattica e tutto, ma anche di essere presente caratterialmente. Paolo, cosa ne pensi? Anche perché lo sport è fatto anche di queste cose che sono molto molto importanti. Sicuramente poi diventa difficile quando si vedono alcune lacune. È chiaro il discorso che fa Giuliano comunque non fa una piega, per carità, le differenze sono tecniche anche di Rosa, abbiamo detto anche fisiche, abbiamo visto il secondo tempo ma anche la fine del primo uscire fisicamente fuori il Milan e tutto quanto. Però chiaramente quando si vedono certe piccole crepe o sbavature che esulano un po' la questione tattica, viene un po' da chiedersi poi se questa piazza sia adatta a personaggi di un certo spessore, nel senso è possibile tenere un progetto come e quello di Sarri in una squadra come la Lazio, tenere un Milinkovic-Savic, si rischia sempre di ballare un po' tra questi due livelli, tra il livello Champions per capirsi e un gradino sotto che per carità non è niente di infamante, però non si capisce bene quanto possa a volte questa società essere in grado anche di essere un po' più di grande livello, anche a livello di mentalità. Questo credo che sia un po' un difetto, uno dei primi difetti della gestione dell'Otito, la difficoltà sempre di comportarsi di grande squadra anche in questioni che siano extra tecniche. Giuliano, poi andiamo a concludere. Sì, questo è inevitabile, è una stagione strana, l'entusiasmo per l'arrivo di Sarri però è una stagione di transizione purtroppo e da una parte come dici tu è male arrivare con tutti questi giocatori a scadenza, abituati comunque a posizioni diverse, forse a neanche riuscire ad arrivare, insomma è un momento brutto, però forse potrebbe anche essere una situazione che se la società è brava può sfruttare in maniera positiva per ripartire da zero, se davvero riuscirà a convincere i retati, perché poi noi parliamo, ma tanto Sarri lo sa che è la fine della stagione che questa squadra la deve fare, poi bisogna vedere che accordi si riusciranno a convincere. Grazie a Giuliano De Matteis e grazie a Paolo Bonelli per essere stati qui a Piazza della Libertà in questo episodio dedicato appunto a Lazio-Milan e a questo finale di stagione, grazie appunto a Paolo e a Giuliano e questo episodio è stato registrato al termine della partita Lazio-Milan, 24 aprile e certo potremmo parlare ancora molto, ma non sappiamo cosa dire, perché aspettiamo un comunicato della società in merito a quello che è successo in campo sulla risata di Acerbi e aspettiamo anche un comunicato sul futuro tecnico della squadra e anche sulla organizzazione stessa, possiamo anche dire dei rapporti con i tifosi e di quello che potrà accadere. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima.